Ancora buon pomeriggio e bentrovati da Mauro Ciutini. Un veicolo segnalato fermo in A11, la Firenze-Pisa, tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Un veicolo pesante. Altro veicolo in difficoltà sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strassigna e Ginestra-Fiorentina in direzione di Livorno. E' sempre chiuso un tratto sulla Aurelia dopo un incidente tra Anzedonia Nord e l'incrocio Capalbio in direzione di Roma. Deviazioni sul posto. C'è una riduzione di carreggiata sulla Bist-Tiberina, la E45, lavori tra Pieve-Santo Stefano Nord e Val-Savignone in direzione dell'incrocio con Ravenna. Attenzione anche sulla Statale 12, dall'abitone del Brandero, un senso unico alternato dopo una frana tra l'incrocio Giardinetto e l'incrocio Popiglio. E' tutto per il momento. Poverse Toscana con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a più tardi. Grazie a tutti.